buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi venerdì 24 aprile 2015 allora cominciamo con il santo del giorno il santo di oggi lo vediamo subito è san fedele il sole sorto alle 6.10 tramonterà le 20.02 il tempo la giornata che si apre con il sole sulla costa ma con possibilità di pioggia invece nell'entroterra ma si apre anche con temperature ancora piuttosto elevate 14 gradi e mezzo perché ci segue in diretta alle 7.30 allora oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso al mattino dalle ore centrali poi è previsto un aumento della nuvolosità in particolare nelle zone interne avremo rovescio temporali sparsi lungo gli appennini le temperature in lieve diminuzione i venti sono dai quadranti meridionali per domani sabato 25 aprile domani giornata di festa parzialmente nuvoloso per nuvole medio alte precipitazioni che però non ci saranno con temperature senza variazione di rilievo per la giornata di domenica invece 26 aprile avremo cielo nuvoloso e non si escludono locali piovaschi in serata nelle zone interne il tempo sarà comunque perturbato instabile sulle marche nelle giornate di lunedì e martedì con temperature stazionarie o al più in lieve aumento vediamo adesso i giornali cominciamo dalla pagina di fano del messaggero la cronaca droga arresti e denunce il lido e la stazione ferroviaria sono sorvegliati speciali è stato arrestato un giovane che nascondeva oltre due etti di eroina nell'intestino un altro ragazzo invece sorpreso a spacciare nei pressi del parcheggio dell'Arzilla il questore Laurio la dice ci stiamo preparando alla stagione estiva intervenendo nelle zone ritenute a più alto rischio la richiesta dei residenti dai vandali al degrado sul caso del lido presto ci sarà anche una assemblea pubblica sulla pagina di fano invece del resto del carrino la pagina il giornale si occupa di politica con il candidato che ancora non è stato individuato per Forza Italia situazione imbarazzante si defilano anche Giuseppe De Leo, Mauro Falcioni e Giancarlo Danna mentre l'ex assessore Simone Antoniozzi chiede le dimissioni del coordinatore regionale Remigio Ceroni ancora dai quotidiani locali la pagina di fano adesso invece del Corriere Adriatico spacciatore bloccato a Lido nigeriano sceso da un treno trovato con 200 grammi di eroina nell'intestino presto le telecamere sorveglieranno la stazione ferroviaria in arrivo una videosorveglianza potenziata con nuove telecamere per la zona della stazione di fano ad annunciarlo il questore Antonio Lauriola le nuove telecamere saranno acquistate dal comune e collegate con il commissariato e le centrali delle altre forze dell'ordine 12 soldati controllano il territorio di fano erano stati promessi dal prefetto per l'estate Fratelli d'Italia intanto organizza un sit-in sabato per il ristoratore che è stato picchiato dalla baby gang dei giorni scorsi parliamo del 25 aprile domani si inaugura il nuovo monumento dell'Ampi l'associazione nazionale partigiani d'Italia gordino eroismo e modestia liberi grazie a quelli come lui e adesso andiamo sulle pagine di Pesaro perché c'è un'altra importante operazione questa volta dei carabinieri operazione mozzicone così è stata chiamata che ha portato all'arresto di nove persone droga pure in banca presi spacciatori inchiesta scopre gang italo albanese arrestati calciatori e parrucchieri sequestrati oltre due chili di sostanza stupefacente vendevano senza problemi anche a ragazzini minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni tra gli arrestati c'è anche un promesso sposo che ieri si doveva sposare avrebbe dovuto dire sì alla sua amata però è stato tutto rinviato nascondevano le dosi negli asciugatutto dei bar e addirittura riposa cenere queste sono le persone arrestate un momento della conferenza stampa con il comandante della stazione della compagnia dei carabinieri di Urbino e un fotogramma invece dell'arresto di uno dei nove che sono appunto finiti in manette la politica torniamo sul Carlino di Fano la politica Carloni sto con spacca è il futuro delle Marche dice il consigliere regionale del nuovo centrodestra così condividiamo la tradizione popolare italiana Ceriscioli resta in testa stiamo parlando dei sondaggi sondaggi che stanno facendo discutere in questi giorni tra quello di Piepoli e quello della Sigma Consulting manca l'effetto governatore Ceriscioli dicevo resta in testa spacca invece al terzo posto quasi gli stessi dati per il PD mentre il testa a testa diventa una corsa a tre con i grillini sotto alle 18 oggi il taglio del nastro per due nuove piste ciclabili la bici politana di Pesaro si andrà dal Miranfiore al sottopasso ferroviario e poi davanti alla stazione degli autobus Martina, la figlia di Livia la maestra che è rimasta vittima di un incidente stradale nei giorni scorsi la figlia 21enne va nelle classi della mamma dice non piangete, lei non vorrebbe per la figlia di Livia un abbraccio collettivo degli alunni lei rimarrà sempre con voi ha detto la figlia non dovete dimenticare che vi ha insegnato a volervi bene e poi la cronaca invece del funerale di Livia con la pagina del messaggero non odiate chi ha ucciso Livia centinaia in duomo ai funerali dell'insegnante morto dopo essere stata investita da un novantenne la figlia dice la colpa di ciò che è successo non va ricercata da nessuna parte e nessuno merita di soffrire da padre Marzio Calletti parole di perdono e di speranza i familiari la forza e l'amore che hai sprigionato sono con noi e ancora sempre dai quotidiani droga dal parrucchiera al calciatore smantellata alla ragnatela dello spaccio si è conclusa con nove arresti e un anno di indagini l'operazione mozzicone dei carabinieri della compagnia di Urbino ancora dai quotidiani torniamo sulla pagina principale del messaggero la banda del Bancomat fa esplodere la cassa Pergola salto nella notte alla banca di credito cooperativo sono scappati con un bottino di 35 mila euro è successo l'altra notte nel centro di Pergola quando alle tre una banda di cinque individui a volto coperto è entrata in azione in via martiri della libertà il basket è diventato puro divertimento dopo quasi 30 anni torna a Pesaro la squadra di Giramondo a cavallo tra show, sport e solidarietà sempre dal messaggero gli assessori del Partito Democratico si dimettono via anche viventi oggi è un incontro con la stampa della delegazione Democrat che lascia Spacca continuerà a governare con solo due assessori che sono la Giorgi e Malaspina ancora dal quotidiano romano primo maggio e 25 aprile alla supermarket la grande distribuzione alza le serrande per l'imminente doppio ponte e quindi avremo negozi tutti aperti durante le feste protestano i sindacati dicono non serve nessuno si spezzano le famiglie i lavoratori sono sottopagati soltanto l'ipercop resterà chiusa grazie al contratto integrativo che preserva queste giornate furti in casa via agli incontri nei quartieri a Pesaro la prima assemblea martedì prossimo sindaco e assessore si confronteranno con i residenti di Borgo Santa Maria andiamo sul Corriere Adriatico la pagina di Pesaro anche qui la cronaca smantellata rete dello spaccio nascondigli originali e sconti per i minori i nove erano abili nel fidelizzare clienti dall'imprenditore edile all'esercente commerciale fino all'impiegato di banca ma anche come dicevamo giovanissimi fra i 14 e i 17 anni ancora dal giornale di Ancona la figlia e un alunno dicono sei con noi duomo gremito per la maestra Livia padre Marzio invoca il perdono e ancora c'è stato nei giorni scorsi un incontro la cooperativa Tre Ponti di Fano con coloro che vogliono andare a governare in regione ambiente e salute solo buoni propositi confronto dei comitati di Bellocchi con i candidati governatore spacca era assente per Celiscioli invece c'era un fanese Maggi dalla colpa al PD mantrasti favorevole agli screening preventivi per Paolini situazione migliorata Minardi invece promette indennizi a chi vive vicino alle fabbriche poi ancora la polemica con la polemica di Forza Italia noi non ci candidiamo Francesca Falcioni replica all'ex Lucia Salucci ancora dai quotidiani solo per vediamo se eccola qua l'ultima pagina quella del Corriere Adriatico Ceriscioli si impegna per l'ospedale il candidato governatore e Traversini dicono stop alla politica di spacca una notizia che arriva da Fossombrone dove i candidati del centro-sinistra Ceriscioli e Traversini hanno assunto l'impegno di mantenere l'ospedale di Fossombrone e le sue funzioni con la dotazione di alcuni servizi che potrete leggere acquistando il giornale questa mattina in edicolo io invece mi fermo qui grazie per averci seguito buona giornata a domani grazie per aver guardato il nostro canale